Un farmaco accessibile. La norma della manovra 2024 rivede la distribuzione diretta per far uscire i farmaci dalle farmacie ospedaliere, poco accessibili agli assistiti e portarli nelle farmacie del territorio. Lo scopo è quello di favorire la distribuzione capillare del farmaco a favore della collettività e di incrementare i livelli di assistenza di prossimità, assicurando su tutto il territorio nazionale un'assistenza farmaceutica omogenea. Con le nuove regole i cittadini non dovranno più recarsi dunque presso la farmacia ospedaliera per ritirare i medicinali, ma potranno farlo nella farmacia di comunità più vicina e con il controllo del proprio medico di famiglia. Si tratta di andare incontro a tutte quelle persone che hanno patologie croniche non trasmissibili importanti, BPCO, diabete, tutte patologie che concorrono ad una richiesta di cura importante e che deve avere appunto nella prossimità, quindi nella vicinanza al luogo di cura, la risposta. Con questa norma in legge di bilancio la diamo e vedremo i risultati diciamo in primavera. L'AIFA sta individuando la selezione di farmaci destinati al trasferimento e dentro la fine di marzo stilera la lista come previsto dalla legge di bilancio 2024 che sarà poi aggiornata a cadenza annuale.